con la nuova legge una breve esperienza, causa è davanti alle giurisdizioni superiori. In realtà questa norma è stata aggravata, resa più complicata dalla riforma professionale forense, quella riforma fatta dai grandi studi legali o dai vecchi studi legali a danno dei giovani professionisti. Dital che se adesso si vuole diventare patocinatori davanti alle giurisdizioni superiori bisogna svolgere non solo un esame, bisogna svolgere soprattutto un corso a pagamento, corso che viene fatto a Roma. Ora mi immagino un giovane avvocato siciliano che per diventare cassazionista ogni fine settimana per tre mesi debba venire a Roma con un esborso di soldi immenso per diventare cassazionista. Tutto questo è semplicemente ingiusto, ingiusto verso gli avvocati ma tutto verso i giovani avvocati. Grazie, non ho altri scritti a parlare. 26.19 Colletti, parere contrario, relatori di maggioranza del governo, favorevole alla donna di minoranza, la votazione è aperta. Ginefra, ogni cosa ha a suo tempo, lo monte. Ginefra non riesce a votare e noi... Bene, a questo punto mi pare... Non è Nicchi, sta votando se... No, prego, per carità. Abbiamo finito? Bene. La votazione è chiusa. Presenti 411, votanti 409, astenuti 2, maggioranza 205, favorevole 160, contrari 249. La Camera respinge. Ora siamo agli identici. 26.20 Mazzotti di Celso e 26.21 Colletti. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mazzotti di Celso. Ne ha facoltà. Sì, Presidente, grazie. Rapidamente, con questa norma Scelta Civica cerca di fare un altro passo verso un minimo di maggior contributo e maggior ruolo degli avvocati più giovani nella professione. Noi oggi abbiamo una struttura per la quale il massimo organo di rappresentanza dell'avvocatura, cioè il Consiglio nazionale forense, può essere fatto solo di cassazionisti. È una cosa del tutto anacronistica, anche per ragioni legate al sistema per l'accesso al ruolo di chi ha messo a esercitare di fronte alle giurisdizioni superiori. E noi proponiamo semplicemente che chiunque sia ammesso all'albo da almeno otto anni possa accedere all'organo di rappresentanza, che è un organo di rappresentanza di tutti gli avvocati, compresi i giovani che si occupa dei praticanti. Quindi concentrarsi solo su chi può patrocinare in Cassazione e concentrarsi su una categoria che ha una specializzazione professionale.